Musica Eccoli qua, guarda, Bracobaldi Bracobaldi insieme Allora come sono Alex, come sono gli incontri di stasera? Ancora non lo so come sono Si prevedono belli come sempre Ti senti pronto per arbitrare questi incontri? Adesso ho parlato con Leone Mi sa che voglio fare il brevetto d'arbitro Adesso ti vediamo Così quando sono infortunato Visto che io otto mesi all'anno sono all'ospedale per i match Andrò a fare l'arbitro Quando sono in riserva faccio qualcosa Lo dicevo io Grazie, ci vediamo dopo